Ciao ragazzi! State guardando lo show o state aspettando la Sartiglietta? Stiamo aspettando la Sartiglia. Ma a Sartiglia o a donne? La verità. Tutte e due diciamo la verità. E più o meno. Di dove siete? Di Ollastra. Di Ollastra Simagis. Come siete venuti qua? In Pullman. In Pullman. Andate via in Pullman. Sì. Siete venuti anche l'anno scorso? Sì. Sembra, sembra. Ma chiamo zio Sartigliante. Chi è tu? Paolo Pipia. Ah ho capito. E cosa prevedete per dopo? Niente. State qua. No, andiamo a vedere. Per divertirci una Sartiglietta. Per divertirci un po'. Speriamo prendano molte stelle. Eh sì. Ti fa ridere la parola stelle o speriamo che prendano molte? Niente, niente. Allora, c'è un rito che facciamo con i ragazzi della vostra età. Questo perché si dice che se si fa questa cosa si cucca alla Sartiglietta. Bisogna guardare in camera al mio 3 dire EIA tutti quanti. Siamo pronti? Uno, due, tre. EIA! Sartigliante.